Ok, allora vi chiedo già scusa per la mia voce ma purtroppo... 21C, c'è il cambio di guardia, devo spiegarmi. Ok, ha bloccato, si è bloccato, quindi aggiriamolo, ok, qua c'era una scala, santo. Qua arriva il nemico. Ma no. Eh, se non lo sei te. Allora, perché qua ritorno dove ero prima? No. Allora, aspetta un momento. Qui saliamo? Qui saliamo. Non. No, no, no. Vabbè, allora. Mi scusi, eh. Se qua... Non c'è niente. Questo si può usare. No. Qua, no. Eccola. Trovata. Ma che grotta che si è creata qua. Qua c'è era? Qua, no, no, no. Wow, 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 wow. ecco la colpita ok 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 qua c'è un altro fuschippa qua qua l'ho piazzato ma tutto ci ha servito qualcosa qua oh devo seguire il tubo rosso ma in teoria bisogna seguire il tubo rosso ma voglio vedere cosa c'è z4 r3 cosa sono sti podice? sembra strano sembra strano boh lo capiremo magari bisogna togliere l'elettricità giù cos'era? non 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ma lì ha aperto. Oh, qua potenziamento. Non ho potuto aspettare Allora Io voglio potenziare E questo non ce l'ho io Oh va qua Ma che bello Vendere posso vendere questo Io non posso comunque posizionare Non è bello Così Ok Ok ora ho capito Ok 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 Grazie a tutti.